Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana, sulla A1. Per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Stanotte per lavori dalle 21 alle 8 sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Sulla Fipilì fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. La viabilità cittadina per lavori in Viale Redi, Piazza Puccini e Via delle Cascine sono in vigore provvedimenti alla circolazione. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!